Una malattia silenziosa che però può portare danni irreversibili alla vista se non diagnosticata per tempo. Stiamo parlando del glaucoma, in Italia ne soffrono un milione di persone e una su due non ne è consapevole. La clinica Ruech di Napoli, in collaborazione con il suo partner per l'oculistica e leggi medical, ha introdotto in occasione della settimana mondiale del glaucoma una nuovissima tecnica chirurgica per la cura del glaucoma. Ma che cos'è il glaucoma? Risponde il dottor Luigi Conti, primario di oculistica della Villa Stabia di Castellammare e accreditato come chirurgo presso la clinica Ruech. La caratteristica fondamentale del glaucoma è quella di essere asintomatica, viene definita come il ladro silenzioso della vista e per tale motivo è fondamentale che i pazienti vengano sottoposti a visita oculistica dove è possibile riscontrare quello che è l'elemento fondamentale di causa dell'alterazione del nervo ottico, cioè l'aumento della pressione endoculare. Il laser subcyclo è una tecnica sicura, efficace e avviene in dei sargeri. Indicata per i vari stati del glaucoma, può ridurre o far sospendere la cura farmacologica, come spiega il dottor Lucio Zeppa, primario di oculistica dell'ospedale Moscati di Avellino e accreditato come chirurgo presso la clinica Ruech. Questo laser ha la possibilità di ridurre la formazione dell'acqua che l'occhio forma agendo direttamente su una struttura che si chiama corpo ciliare. Nel oltre il 95% dei casi abbiamo ottenuto l'obiettivo propostoci. Tra i primi ad eseguirla in Campania, anche il dottor Vito Turco, chirurgo accreditato presso la clinica Ruech, è responsabile della chirurgia e patologia vitrio-retinica presso l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. In Ruech ci si è allineati in anticipo alle più recenti linee guida, sancite dalla Società Europea del Glaucoma, che definisce la tecnica subcyclo come alternativa chirurgica non invasiva per la cura di questa patologia. Come sottolinea il dottor Rodolfo Lo Schiavelia, chirurgo accreditato presso la clinica Ruech. Noi abbiamo qui per esempio l'SLT, che è la terapia che può sostituire le gocce all'inizio della terapia, quindi non medicalizzare i nostri pazienti, ma piuttosto fare un laser che permette di abbassare la sua pressione, oppure l'ultima novità a nostra disposizione è il laser subcyclo, che ci permette di abbassare il tono laddove le terapie con i colliri o le terapie SLT non hanno funzionato. Siamo davvero felici di essere in Ruech, che è l'unica in Campania oggi a poter utilizzare queste tecnologie.